La scuola noto federale è un progetto total quality della federazione italiana noto. La federazione vuole certificare quelle che sono le competenze tecniche dei nostri istruttori, allenatori, coordinatori, principalmente in tre settori, propaganda, l'agonismo e i master. I propaganda sono quelli che i nostri bambini, i ragazzi, che svolgono a livello amatoriale, che vengono in piscina, nuotano, e ogni volta a mese ci organizziamo e andiamo a fare delle gare fuori. Quindi quasi tutti i ragazzi della nostra scuola noto sono continuamente impegnati in queste manifestazioni. E non finisce qui, perché poi ci sono gli agonisti, quelli che abbiamo visto in questi video, che sono continuamente impegnati a avere attività. Si allenano pure più di 7 volte a settimana, con tanti sacrifici. Loro sono quella che è l'eccellenza della velocità. E poi, legati alla certità, lo finisce qui. Abbiamo anche il settore master, diciamo i meno giovani, che è riservato dai 25 anni in poi. Però possono partecipare pure ognuno che gareggia nella sua categoria, che vanno di 25, 30, 30, 35, fino ad arrivare non al nuovo limite. Ci sono anche atleti di 70, 80 anni che, nonostante l'età, si mettono sotto e gareggiano sia nel nuoto che nelle attività di salvamento.